L'associazione Robin Hood interviene sulla questione del carobollette della Ruzzoretti, interviene dicendo la sua, innanzitutto eliminando la gazzara, cosiddetta tra virgolette, politica sulla vicenda. Sì, non c'è una questione di gazzar politica, la questione è molto semplice. Ci sono delle norme che vanno rispettate e che attendono tutto il sistema che riguarda sia il servizio litico, sia il servizio della tariffazione dei rifiuti, sia l'energia elettrica che la luce. Tutto ciò viene regolamentato dall'ARERA, che è l'acronome dell'autorità che gestisce tutte queste competenze. Che cosa prevede questa ARERA? Prevede che bisogna fare fatturazioni in un certo modo, bisogna fare lettura in un certo modo, bisogna realizzare in un certo modo. L'Arruzzo quindi aveva ragione a fatturare, ha sbagliato a non fatturare prima, però apriamo un altro parentesi che poi affronteremo successivamente. I cittadini devono eccepire la prescrizione così come prevede il Codice Civile. Il Codice Civile prevede che chi ha un credito lo deve levantare, dopodiché chi ha il debito deve eccepire la prescrizione. Quindi il cittadino deve eccepire la prescrizione per quanto riguarda il periodo superiore a due anni. Questi due anni non sono state fatte le letture, questo è un altro dato, e siccome era il regime di prorogazio per quanto riguarda la qualità del sistema, chiaramente non si possono chiedere rimborsi. Però da oggi in poi, laddove la fatturazione con le letture che sono previste anche essere l'autorità, non avviene in correttezza, si può chiedere degli indennizi che sono chiamati automatici, perché appunto scattano automaticamente e sono dovuti, senza stare a fare caos e altre cose. La questione dell'autolettura. L'autolettura è un'opportunità, noi scriviamo nel comunicato stampa perché? Perché ci consente di monitorare i nostri consumi e quindi laddove c'è uno sciacquone che perde, dove c'è una situazione che possa determinare una bolletta alta senza che io l'acqua l'abbia consumata, effettivamente l'unica possibilità che ho di controllo è quella della lettura del contatore. Voi state predisponendo comunque dei ricorsi? Sì, noi non volevamo neanche fare la conferenza stampa, però poi visto che ci sono tutte queste notizie che escono, anche i contraddittori, abbiamo voluto un attimo rimettere i paletti in fila. Sì, ne abbiamo fatto ormai un centinaio di ricorsi che appunto eccependo sia la legittimità della lettura al 30 novembre 2018, perché non è impossibile che a Ruzzo abbia fatto tutte queste letture, sia la prescrizione. Sì, c'è anche la questione della rateizzazione. Sì, la rateizzazione, l'autorità prevede che per periodo di ciclo di fatturazione non rispettato, la rateizzazione abbia una uguale durata, chiaramente se tu non mi fatturi per due anni, in due anni devo essere messa in sei fatture, tu mi devi fare una rateizzazione pare ai due anni, quindi 24 mesi al numero di fatture che sono mancate.